Calcagno, un anno di presidenza Tommasi, una nuova squadra che si lancia per questo quadriennio? Sì, si lancia sapendo di dover continuare con nuovi stimoli il lavoro intrapreso un anno fa, certamente con una compagine che è anche parzialmente rinnovata, ma gli stimoli ci derivano soprattutto da un'assemblea come quella di oggi che ha visto una partecipazione che da un po' di anni non si poteva notare. Quindi siamo molto contenti di questo e del coinvolgimento che stiamo riuscendo a ricreare. È chiaro che la responsabilità è ancora più forte quando poi il coinvolgimento è a questi livelli. Figure come quella di Buffon sicuramente danno il senso di quanto ha appena affermato. Sì, sì, non deve essere una situazione che, come ci hanno chiesto alcuni tuoi colleghi, ci debba far sentire più forti per contrastare qualcosa e certamente ci dà ancora più la percezione di quello che stiamo facendo e soprattutto ci deve dare la forza di restituire un po' di serenità anche all'ambiente e alle trattative che di qui a breve andremo ad affrontare soprattutto con la Serie A. Quindi non è un mostrare i muscoli ma è una consapevolezza che il movimento si è ricompattato e per noi questo era molto importante. Sul tema della salute l'AIC è sempre stata estremamente attenta ed attiva. Forse bisogna cercare di fare qualcosa in più? Sì, il tema della salute ovviamente ha tanti ambiti perché il settore dilettantistico rispetto al professionistico ha tipologie di problematiche differenti. Nel settore dilettantistico abbiamo anche proposto in Consiglio federale che al tesseramento venga collegato la certificazione medica di idoneità perché diventa poco comprensibile come si possano avere situazioni di calciatori che svolgono la loro normale attività agonistica senza avere un certificato regolarmente depositato. Nel settore professionistico chiaramente noi abbiamo un sistema di visite mediche che tra i più completi al mondo ci viene riconosciuto e quindi posto che a differenza del settore dilettantistico non c'è il minimo dubbio che tutti lo facciano e che lo facciano anche bene. Bisogna semplicemente a nostro modo di vedere lavorare molto sull'attività d'urgenza e quindi sui presidi d'urgenza che ci sono sui terreni di gioco. Per questo abbiamo proposto una Commissione federale che sia unica a valutare queste situazioni e un pronto soccorso sportivo che sia quindi un'unità coordinata all'interno di ogni terreno di gioco dove si svolgono partite professionistiche con a capo un responsabile che possa curare tutta l'attività di primo soccorso, cosa che in questo momento non viene svolta. Contratto collettivo si torna di nuovo in argomento con la speranza di chiudere in tempi rapidi e adeguati il nuovo accordo. Speriamo con la giusta dose di buonsenso, di serenità perché sarebbe veramente un messaggio brutto da far provenire dal nostro mondo se si dovesse di nuovo arrivare ad uno scontro come è successo in passato. Ci sono i presupposti per poterne parlare in maniera serena, non c'è molto tempo. Noi ci auguriamo che già nell'Assemblea di oggi la Lega abbia nominato la Commissione che possa discuterne con noi perché ormai siamo molto vicini al 30 di giugno e questo creerebbe certamente una situazione di disagio per tutti. Un voto secco alla Presidenza Tommasi del primo anno? Non mi sento di dare voti anche perché ne sono partecipe in prima persona e quindi è chiaro che noi dobbiamo darci degli obiettivi anche per il futuro e al di là di quello che si è fatto, che secondo me è stato un lavoro che anche oggi in Assemblea ci è stato riconosciuto, è stato un lavoro fatto bene, dobbiamo essere concreti perché la vera possibilità, la grande sfida che noi abbiamo per il futuro è la concretezza, quindi porsi degli obiettivi e riuscire a raggiungerli nei tempi giusti. Grazie.